Bentornati alla notizia di Grande Fratello Bip. Oggi con le ultime notizie lichè. Albano Carrisi e Romina Power, dopo una lunga assenza, sono pronti a tornare insieme. Vediamo quando accadrà l'attesissimare union dei due cantanti. Albano Carrisi e Romina Power hanno formato una delle coppie più amate degli anni 70, 80 e 90. La Power, figlia di artisti, ha sempre amato l'Italia. Durante un viaggio nel nostro paese, nemmeno maggiorenne, ha conosciuto il leone di Cellino San Marco e da lì è iniziata una lunga e intensa storia d'amore. I due hanno avuto quattro figli insieme, Romina Junior, Christelle, Yari e Ilenia. Quest'ultima, purtroppo, è scomparsa nel nulla durante un viaggio in America circa 30 anni fa. Quell'evento traumatico fu l'inizio della fine della storia d'amore tra i due artisti. Pochi anni dopo, la coppia si separò per poi divorziare ufficialmente in seguito. La delusione tra i fan fu enorme. Albano e Romina sembravano destinati a rimanere insieme per sempre ma così non è stato. Per quanto è dato saperne, l'artista americana non ha mai avuto altre relazioni sentimentali da quel giorno. Albano, invece, si è legato sentimentalmente a Loredana Lecciso, giornalista leccese. Insieme a lei ha avuto due figli, la bellissima Jasmine e Albano Junior, detto Bido. Molti sono convinti che Albano e Romina siano ancora innamorati ma gli anni passano e un ritorno di coppia ufficialmente non c'è mai stato, almeno finora. Il ritorno di Romina e Albano, dopo non essersi parlati per anni, nel nuovo millennio Romina e Albano sono tornati in buoni rapporti. L'amore per i figli ha contribuito tantissimo alla loro riappacificazione. Poche ore fa, sui profili social di entrambi gli artisti, è apparsa una storia che ha fatto felici milioni di fan. Albano e Romina tornano insieme, come cantanti sul palco. Il duo, infatti, sarà impegnato in un tour dell'Est Europa che li terrà impegnati per tutto il mese di novembre. Ecco Coscia pubblicato sui social la cantante americana, Albano e Romina Power Tour 2022 sancisce il ritorno della coppia musicale formata dai due cantanti. La data da segnare sul calendario è quella del 3 novembre, quando canteranno a Sofia. Come si vede, nel mese di novembre i due faranno un tour dell'Est Europa, passando per Bulgaria, Romania e Polonia. In quest'occasione, Albano e Romina avranno modo di cantare per i tanti bulgari, rumeni e polacchi che amano la musica italiana, così come per la numerosa comunità di italiani residenti in quella parte di Europa. I più maliziosi si chiedono, i due dormiranno nello stesso albergo? Quanto tempo trascorreranno insieme al di fuori delle due, tre ore di concerto? Saranno accompagnati da membri della famiglia o viaggeranno da soli e avranno tanto tempo libero a disposizione? Chi ancora spera in un clamoroso ritorno di fiamma, anche come coppia di fatto, sarà felicissimo di leggere di questo tour all'estero. Qualcosa tra i due è rimasto. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.